ragazzi oggi partenza full gas ma che cazzo stai a dire? full gas cosa? guardate lì quanta neve vabbè andai ciao ragazzi ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ultimo giro prima della zona rossa quindi 19 dicembre ore 11 di mattina mi trovo al monte cengio tutte le strade che sale è quasi in cima quindi c'è un po' di neve come vedete il visuale è top guardate qui che bella giornata fantastica zona, zona sacra di guerra qui ci sono tutte le gallerie che proseguono la gente che può fare a piedi e questa è tutta la pianura che si vede giù giuro che da casa mia non si vedeva un piede di neve c'è niente proprio non pensavo eh mi aspettavo che ci fosse qualcosa ma non così ecco raga io tra poco scendo mi raccomando segui tutto il video se ti piace metti un like qui sotto e iscriviti al canale ciao a tutti raga è tutta ghiacciata eh e niente 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 questa situazione ora adesso uscendo di qua ok ok è tutta giù è tutta giù la città è tutta giù la città è tutta giù ah quella parte lì fa sempre un po strangere un po le chiappe un po le chiave un po tanto che non la faccio quindi faccio parte da stia è tirata lì diciamo che quella parte di sopra era parecchio incazzata è un po' messo male è un po' messo male Ouh Questa di qua, di qua Grazie a tutti. Oh, Giuliani da paura. Oh, Giuliani da paura. Oh, Giuliani da paura. Oh. 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 Un'altra cosa. Vi ricordate prima la neve in cima appena partito? Ecco. Io ero lì in cima su cui la roccia è enorme. Adesso basta raga. Al prossimo video. Io sono cotto.